Incendio nelle prime ore del pomeriggio in un campo retrostante l'hotel oaside di Scepoli a Sferracavallo, probabilmente causato da un accidentale colpo di vento che ha alimentato il fuoco proveniente da un cumulo di foglie secche che stavano bruciando. Il rapido intervento del 115 dei Vigili del Fuoco di Orvieto e del Servizio Antincendio della Protezione Civile Comunale ha scongiurato l'estendersi delle fiamme alle proprietà confinanti. L'incendio è stato domato nell'arco di mezz'ora e per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.